Onorevole Pedicini, perché l'astenzione a Lagarde? La Lagarde è stata il presidente del Fondo Monetario Internazionale, quindi diciamo che ha avuto una corresponsabilità nelle politiche fallimentari che hanno generato la austerity e le riforme strutturali che hanno penalizzato l'Italia e tutti i paesi del sud Europa in questo periodo. Quindi per noi era davvero inaccettabile votare la Lagarde con convinzione. Aspettiamo di vedere che cosa farà e poi dopo valuteremo. Ma il discorso di continuare le politiche di Draghi è nell'interesse di tutti. In questo momento di deflazione economica in Europa la Banca Centrale Europea non può fare altro che iniettare liquidità nel sistema, altrimenti non ne usciamo più. Però il punto è un altro. Noi sappiamo per certo che la Lagarde non ha avuto pietà nei confronti di popoli che sono andati in grande difficoltà come la Grecia e quindi non possiamo giurare che domani non lo possa fare per qualcun altro. Quindi noi siamo molto scettici e anche molto prudenti e ci asteniamo per il momento.